Una selezione del ricco corpus di collages realizzati da Giulio Cepi, architetto e designer milanese, riserva non poche sorprese ai visitatori della mostra, curata da Elisabetta Longari, scollamenti temporali, che apre alla triennale di Milano il prossimo 7 giugno e resterà in calendario fino all'8 luglio. Le oltre 160 opere collages, che compongono l'installazione, sono basate sulla relazione tra opere d'arte del passato e campagne pubblicitarie contemporanee. Accostamenti a prima vista improbabili trovano una familiarità inaspettata, dando luogo a una serie di contrasti, paradossi e provocazioni. In questi montaggi su carta Giulio Cepi ha giocato con due tipi di frammenti, parti di immagini che riproducono capolavori della storia dell'arte dal 200 al moderno, e ritagli di riviste che illustrano campagne pubblicitarie di moda, dando vita a relazioni fluide, aperte e imprevedibili tra arte e moda. Il lavoro del progettista, architetto e designer, consiste sempre più nell'assemblare materiali, segni, codici, linguaggi, trovando ogni volta una nuova e diversa sintesi, originale quanto capace di produrre un assenso condivisibile. Il frammento ha un grande valore in questo processo, che sia frammento fisico o intangibile, mnemonico o reale, figurativo o astratto…non importa. Avrei voluto essere un archeologo da bambino, dice l'autore Giulio Cepi, capace di ricostruire un mondo dal frammento, di intuire una vita diversa e lontana nel tempo. Che sia un oggetto, un'immagine, un'architettura, il frammento non è però un dettaglio, ma l'inizio di una possibile storia. Nelle tavole in mostra alla triennale, Giulio Cepi ricerca attraverso il collage, sperimentando liberamente nuove vie espressive e nuovi linguaggi, e rivendicando il diritto alla materia e all'interazione sensoriale con gli oggetti, in un mondo ormai sempre più digitale e immateriale.